Un accordo che ci consente di riuscire a mettere in campo queste risorse nel minor tempo possibile e di quindi anche garantire un maggior livello di sicurezza. È un obiettivo su cui noi stiamo lavorando instancabilmente dal settembre del 2022. Lo ha detto il presidente Francesco Acquaroli, commissario per l'alluvione delle Marche, siglando l'accordo quadro con la SogeSid, che fornirà supporto nella gestione degli interventi necessari per superare gli effetti degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato le province di Ancona e Pesaro Urbino il 15 settembre 2022. SogeSid fornirà supporto tecnico, ingegneristico, amministrativo e legale per la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere di ricostruzione, inclusi i servizi legati agli appalti. Si occuperà inoltre della revisione della documentazione progettuale, della preparazione dei progetti e della gestione delle autorizzazioni e dei collaudi. Il nostro obiettivo, il nostro supporto è quello di accelerare i processi di realizzazione, di progettazione o anche di esecuzione degli interventi, quindi per dare al più presto sollievo a questo territorio per gli interventi che sono fondamentali per la gestione degli eventi emergenziali. Questo accordo mira ad accelerare la realizzazione degli interventi, sfruttando l'esperienza di SogeSid nel coordinamento di opere complesse e garantendo un'efficace attuazione dei piani di emergenza. Abbiamo la possibilità di mettere a terra, in tempi certi e brevi, opere che avrebbero richiesto a noi un grandissimo impegno, quindi le vasche di laminazione, oltre alla vasca di Bettolelle, che è stata inaugurata qualche giorno fa e quindi ci consentirà di concentrarci su quelle che sono le opere del piano della 2011 del commissario che stanno per andare in cantiere perché dovremmo avere entro la fine del mese tutti quanti i progetti preliminari.